e volevo buttarmi fuori e gli ho detto guarda mia madre sta morendo sembra che io volevo restare qua i medici mi hanno detto che posso stare qua no 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 esci poi allora mia madre è seduta rideva e io dicevo a lei e gli ho detto di che stai morendo no? e lei rideva e gli ho detto scorda vai a parlare con i medici e vedi c'è la cartella allora lui non è tornato allora ha capito la situazione e io dicevo a mia madre ma non mi metti in barazzo cioè in barazzo non sta lì a ridere capito? perché veramente mi stavano accacciando fuori poi verso le quattro è arrivato il medico giovane poveretto e allora lui girava attorno alla situazione e lei guardava a lui come si fa oh giovanotto cioè in barazzo non sono stupida ho capito che in barazzo sto morendo gli ho detto non curarmi se no quando vado la torno e ti ammazzo e questo qui è rimasto un po' così gli ho detto non sto scherzando eh allora ehm lei diceva a lui ma se tu mi curi togli la malattia? no se mi curi togli il dolore? no allora facciamogli affari io ho tanti soldi trovo un po' di soldi fammi fuori subito e siamo a posto tutti e rideva lui guardava a me e io fa ma lei sta dicendo su serie? e lei rideva allora mia nonna era uguale cioè come possa essere diverso? è impossibile è impossibile cioè allora è passata questa chiacchierata per capire che non è possibile no no allora lei dice mia madre sempre aveva questo detto fai tutto quello che è necessario oggi muori domani quando arriva domani non è più domani è oggi se non muori mai e io sono sempre andata davanti così eh avete capito Giovanna? com'è cioè e faccio la stessa cosa con il mondo di ballo cioè ecco il mondo di ballo è una bella non dico in frutti io dico tumori è una bella perché per te è motivo di vita che ci hai dedicato tutta la vita però ti sei scontrata anche in vita tantissimo perché tu lo intendi in un certo modo vedi anche prima ha detto per me la tecnica è fondamentale oggi mi sa che non va così no e quindi tu ma finchè ci sono io continui a combattere ma io non dico solo ballando perché quella è una trasmissione potrebbe essere edificata